benvenuti a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie, io virillo, oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido, vai virillo, esponja round 77 ice e il nuovo non poterà mai, e quindi 3, 2, 1, vai vanno! una bomba lanciato da danielino e preso da gabrie come noi u-lock dell'himalaya che ha una velocità della madonna quella scendita lì è riuscito a prenderlo, l'ha lanciato il primo che ha lanciato danielino in mezzo alla folla ho visto spiccare gabrie come un missile ha preso a volo allora il liquido al suo interno ha 20 ml d'aroma ci va aggiunto 30 ml di base preparata e chi vuole ci mette 10 ml di nicotina lo porta a 3 e chi vuole sbappare a 0 ci mette un altro 10 ml di base neutra e lo porta 60 ml di liquido allo stato puro andiamo a fare la prova di questo liquido che al suo interno ha un gelato alla vaniglia con del ribes nero e ice per l'estate ve lo fresco, un gelattoso fresco allora vai gabrie, io l'ho già drippato all'interno della luxotic con il tiny rda della demon killer un dripperino da 14 mm da flower tipo west nano tira fuori bene l'aroma dai liquidi spettacolare e io con la mac pro e il druga vai gabrie, fai la prova di sfatto tanta roba si introdurre di ribes paloso si sente tutto, si sente gelato, bello cremoso, avvolgente l'ice che è spettacolare, che mi piace un bozzo e il ribes buono tanta roba all day lo puoi fumare tutto il giorno a chi gli piace i cremosi io gli do 9 9-9,5 se lo merita se lo merita tutto ha fatto un bel liquido Watson ha rinnovato il suo liquido di round 77 normale con un pochino di ice ma è veramente bilanciato benissimo bilanciato benissimo buonissimo dove lo potete trovare? la svapo caffè marina di carame moliciara e la spezia andatelo a trovare da Cri allora dalla tabella dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e il canale su instagram venitaci a seguire vi aspettiamo ciao ciao